Musica Buongiorno, bentrovati, primo appuntamento della settimana con Mattino 6, la nostra rassegna stampa, la lettura dei quotidiani che troverete oggi in edicola, come sempre l'apertura è dedicata alle prime pagine dei quotidiani abruzzesi, partiamo dal centro, come di consueto iniziamo con l'edizione di Pescara per vedere il titolo di apertura che riguarda la cronaca, non riguarda solo Pescara ma un po' in generale tutta la nostra regione, truffe, vedete, agli anziani, c'è la camorra, finti carabinieri e poliziotti telefonavano da Napoli e dalla Spagna, colpi anche a Pescara. Vediamo in alto la notizia delle ultime ore, Iraq bomba sui soldati italiani, 5 feriti, un ordigno esplosivo, ieri ha investito un mezzo dei militari italiani, uno dei nostri militari ha perso le gambe gravi, le condizioni di altri due giovani soldati. Vediamo poi a centropagina lo sport, lo sport come sempre ampia la pagina nella seconda parte del nostro appuntamento di questa mattina, il Pescara che ha vinto nell'ultima gara di campionato ad Empoli, un Pescara sprint, Zauri lo dicono i numeri, va meglio di Oddo. A proposito di calcio, Serie A di Balagol punisce il Milan e riporta in testa la Juventus. Vediamo invece le altre notizie che riguardano le cronache, Pescara auto e bici elettrica al posto del mercatino etnico, e poi sempre Pescara, liceo musicale, i prof dicono no al trasloco. Vediamo poi in basso, Montesivano vigilante aggredito con la catena, denunciato giovane ubriaco, e poi calcio di eccellenza, colpo dello spoltore, Langolana, Renato Curi, ferma invece il Lanciano. Vediamo la pagina di Chieti, Lanciano vasto, il titolo di apertura riguarda sempre le truffe agli anziani che abbiamo visto poco fa. Vediamo le altre notizie, Lanciano ragazza ubriaca fugge all'alte, denunciata, e poi ancora Lanciano caccia all'amianto anche con i droni. Vediamo poi in basso, a vasto, protesta per l'ospedale. Vogliamo più servizi, le notizie che riguardano lo sport, il basket in questo caso, con l'Esa Chieti che vince il derby con Teramo, il calcio di Serie D, la vastese senza freni, 4 gol. Al Tolentino Chieti crisi e contestazione traballa la panchina di Grandoni. Vediamo la pagina di Teramo del centro, cronaca anche in questo caso in apertura, botte alla moglie incinta di 9 mesi, Teramano di 40 anni indagato per aver lasciato la donna sul balcone di casa. Tortoreto furto con spaccata in agenzia di scommesse. E poi Roseto degli Abruzzi, rivoluzione nella segnaletica nella zona sud della città. E poi ancora Corte dei Conti, inchiesta sul caso Regione Sagitta. L'affare da 56 milioni, vediamo anche lo sport con il punto sulle formazioni Teramane. Il Teramo si ferma in Serie C, perde per 3 a 1, potenza con il Picerno. Notalesco solo in vetta, 10 vittorie consecutive, record per la squadra del tecnico Vagnoni. Basket di Serie A 2 maschile, il Roseto si rialza e fa festa a Montegranaro. Montegranaro, vediamo anche la prima pagina di L'Aquila Vezzano sul Mona. Guasto riparato, acqua non potabile. L'Aquila soltanto domani. I risultati delle analisi, uso consentito per fini igienici. Questo è il titolo di apertura. E poi andiamo a Carsoli, Filma, multe vicini, poliziotto indagato. E poi a Cagnano Amiterno, giovane va a caccia e si impallina. Con il fucile, ancora un altro titolo, solidarietà sul Mona. 2.000 poveri fanno la fila alla Caritas. Vediamo lo sport, l'Avezzano colpo in trasferta per la risalita. La squadra marsicana passa per 2 a 0 sul campo del Porto Sant'Elpidio e conquista i primi punti lontano dai Marsi. Vediamo anche l'Aquila, l'Aquila indenne dal campo del Montorio. Resta in vetta alla classifica del torneo regionale di promozione. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Ingorghi, caso, finisce in Parlamento. Le barriere sequestrate in A14, interrogazione di D'Alfonso sui continui blocchi del traffico nel Minino. Anche i pedaggi non vanno pagati se non c'è certezza di velocità commerciale. E poi Monte Sabinese, telecamere nel Borgo, agente indagato. E poi Cozze dal mare alla tavola, bioallevamento a Punta Penna. Vediamo a centro pagina la cronaca. Ritirano la patente alla figlia ubriaca, il grazie del padre. Poi l'Aquila, il maxiguasto in 24 comuni che restano a secco. Ritorna l'acqua, ma non è potabile. Vediamo anche in basso un altro titolo che ci porta a Pescara. La questione del DUP, dell'ex COFA e la possibilità che possa ospitare l'Ateneo d'Annunzio. Pareri contrari. In alto lo sport, i richiami delle notizie e dei servizi che poi ritroveremo all'interno del giornale. Pescara da vertice, millennial in azzurro. Serie B, momento positivo per i biancazzurri che dopo la vittoria con il Pisa abbissano il successo con la formazione toscana. Andando a vincere ad Empoli con un'altra formazione toscana nella gara giocata sabato scorso. Guardiamo poi la Serie C. Teramo in trasferta stecca ancora. K.O. con il Picerno 3-1 il finale. Poi vedremo il servizio. Serie D, notaresco, centro record, lo dicevamo prima. Decima vittoria consecutiva per la formazione del presidente Salvatore Di Giovanni. Davvero una grande prova quella di ieri per la formazione biancazzurra, bianco celeste e rosso blu, scusate, che guarda al futuro con grande ottimismo. Ma bisogna considerare che tra l'altro il calendario propone sulla carta domenica prossima un match non difficilissimo in casa con il Cattolica. E questa potrebbe essere una partita trappola per il notaresco per la formazione rosso blu che non può assolutamente però permettersi distrazioni per mantenere il primo posto in classifica. Allora abbiamo visto le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, andiamo a vedere invece ora come sempre l'edicola nazionale. Partiamo dal Corriere della Sera. Ovviamente tutti i titoli principali riguardano l'attacco ai soldati militari italiani in Iraq. Vedete il Corriere della Sera, attacco in Iraq alle forze speciali, feriti 5 italiani, ordigno rudimentale, esplode sotto un blindato, gravi 3 militari. La strage di Nasseria, 16 anni fa. E vediamo poi le elezioni in Spagna, il Partito Socialista primo con l'intesa che si avvicina con i popolari per la formazione del nuovo governo. E poi all'Italia, soluzione vicina, si tratta sullo scudo all'Ilva di Taranto. Il Colle preoccupato per le troppe crisi va salvata subito. Vediamo anche Repubblica, torna l'Isis, colpiti 5 italiani, attentato ai soldati in Iraq, ordigno esplosivo ferisce, gruppo di incursori delle forze speciali che assisteva ai combattenti kurdi contro il califato. I militari trasferiti da elicotteri americani a Baghdad, condizioni gravi, due hanno subito amputazioni alle gambe. Vediamo poi la Spagna, vola l'ultradestra, è l'effetto Catalogna, Vox raddoppi e seggi, i socialisti di Sanchez restano il primo partito, ma è rebus governo. Vediamo anche il fatto quotidiano, basta parlare di scudo se Mittal non tiene l'Ilva e tutti gli operai, questo è il titolo del fatto quotidiano. C'è anche un'intervista al Presidente del Consiglio Conte che risponde al fatto su Iraq, Taranto e sulla manovra economica del governo. Vedete anche sul fatto la notizia dell'attentato in Iraq ai soldati italiani, tre sono in gravi condizioni. Vediamo anche Libero, iniziativa di un governo impazzito, dice e scrive Libero in questa prima pagina, assumono 450 mila statali, da Verdi salta il blocco ai concorsi nella pubblica amministrazione, i grillini ne approfittano per varare un'infornata che ci costerà miliardi, gli operai dell'Ilva invece rischiano il posto, scrive Libero. Vediamo anche il mattino, Iraq, l'Isis attacca gli italiani, bomba contro i militari a Kirkuk, cinque feriti. Vediamo poi le elezioni in Spagna, in Spagna è impossibile governare, socialisti primi, vola l'ultradestra, ma potrebbe esserci l'accordo con i popolari per la formazione di un nuovo governo. E poi la politica italiana, Forza Italia in 30, pronte a lasciare con la Carfagna, ribelli in pressing, i dubbi della deputata Lira di Berlusconi, le mosse di Renzi e del PD. Vediamo anche il messaggero nazionale, bomba Isis, soldati italiani feriti, questo è il titolo di apertura. E poi le elezioni in Spagna, premiano Vox, l'ultradestra, socialisti primi ma senza maggioranza. E poi Mossa di Renzi, vedete di spalla questo titolo, emendamento per lo scudo Ilva. E poi a Roma Far West a pranzo, spari dopo la rapina e allarme nella capitale sul fronte sicurezza. Vediamo anche la verità, soldi da Londra per la fuga di Mifsud, l'avvocato alla Link, datelo agli americani, accuse all'Ateneo. Poi Gualtieri sventola lo spauracchio dello spread e alza ancora le tasse. E poi l'Europa l'anno prossimo costerà 154 miliardi, scrive ancora il quotidiano La Verità nella sua prima pagina. Vediamo invece la prima pagina del quotidiano economico Il Sole 24 Ore. Il fisco delega la riscossione dai sostituti, 190 miliardi. Questo è il titolo di apertura. E poi dal 2020 ci sarà l'Ise precompilato, le novità dal 1 gennaio, conti correnti immobili e redditi della famiglia, sono le voci che compariranno automaticamente. E poi ancora un altro titolo, manette agli evasori, l'Italia dopo la stretta è tra i paesi più severi. Lasciamo anche il Sole 24 Ore, siamo alla stampa di Torino. Un Iraq attacco jadaista e i soldati italiani, tre feriti sono gravi. E poi il coach Sin, il ragazzo di ghiaccio che si diverte con il tennis. Vedete questo titolo di questo ragazzo di San Candido in Alto Adige, con il trofeo vinto al Next Gen. Andiamo avanti, il tempo, divise e bucate agli spazzini di Roma, l'ultimo guaio dell'Ama, scrive il tempo. E poi cinque militari italiani feriti in Iraq, il titolo in basso con il corredo di foto. Vediamo poi il secolo.it, camera al buio, una settimana fa si scopriva la mafia in Parlamento, ma sul caso occhio nero restano tutti zitti, tranne fratelli d'Italia, scrive il secolo.it. Vediamo anche invece il secolo XIX, il quotidiano genovese. Iraq attacco contro i militari italiani, cinque feriti, tre sono della Spezia. Ordigno esplode a Kirkuk durante una missione con i kurdi. Guerini, la lotta ai jadaisti continua. E poi vedete questo titolo che riguarda la Liguria in particolare, i nuovi treni pendolari in servizio da questa settimana. Vedete nella foto uno dei treni che inizierà a fare servizio in Liguria, nei trasporti soprattutto regionali. Lasciamo l'edicola nazionale, possiamo tornare al quotidiano Il Centro per ripartire da pagina 2 per parlare di Hollywood, del rogo dopo la festa abruzzese. L'assessore Febo racconta la partenza da una Los Angeles circondata dal fumo, Los Angeles alle prese da tempo con gli incendi. E poi la serata VIP dedicata al cinema con questa trasferta dell'assessore al turismo Mauro Febo. E poi vedete in questa foto in basso i roghi che sulla collina di fronte Los Angeles erano visibili, in pratica ad occhio nudo. Andiamo in basso, oggi appuntamento con Mercurio. Ci sarà una rara eclissi dall'osservatorio di Teramo. Sarà possibile ammirare l'evento. E poi la Lega giovane in assemblea con i deputati Crippa e Bagnai a Pescara. E poi gli impianti di energia. Parte l'inchiesta sull'affare da 56 milioni. La Corte dei Conti chiede atti alla Regione per far luce sulla vicenda della maxitransazione con una società teramana. E poi a 14 giovedì scatta un'altra chiusura, transito vietato dalle 23 alla stazione di Val di Sangro per i lavori dei nuovi asfalti. Siamo alle cronache dalle province. Partiamo da Pescare, progetti del Comune, macchine e bici elettriche al posto del mercato etnico. Cancellato lo spazio dei senegalesi. Previste anche stazioni di ricarica per auto elettriche, proprio nell'area che doveva ospitare il mercatino. Liceo musicale nello spazio, dicono no, anche i docenti. Dopo gli alunni anche i professori si oppongono al trasferimento a Villa Fabio. E poi il sindaco premia due campioni della vela. Cerimonia con gli atleti della scuola svagamente a Pescara. E' sempre a Pescara, nuova sede inaugurata sabato per il sindacato dei giornalisti abruzzesi. Presente il segretario nazionale dell'FNSI, Raffaele Rorusso. Vi abbiamo proposto sabato scorso anche il servizio sull'inaugurazione della nuova sede del sindacato dei giornalisti. 6.000 malati curati in famiglia. Ecco la sanità che assiste a casa. La di unità operativa guidata da Mirella Scimia conta 80 tra medici e infermieri per seguire casi di SLA Parkinson, pazienti terminali e cure palliative. Sono ultra 65 anni, ma anche bambini. E poi zanzare rischio per la salute. Venerdì esperti a confronto nell'aula magna dell'ospedale in un convegno in cui si parlerà proprio delle zanzare e del rischio per la salute dopo le punture di questi fastidiosi insetti. Dentista, servizio per i pazienti difficili all'ospedale civile, ripristinato l'ambulatorio dontoiatrico per bimbi e per gli adulti affetti da deficit. Siamo a Montesilvano, picchia una ragazza alla cronaca, in questo caso aggredisce con la catena guardia giurata. Via Lago di Bomba il giovane ubriaco ha tentato anche di rubare la pistola di ordinanza al vigilante, ma il dipendente Ivri lo ha immobilizzato e consegnato alla polizia. L'uomo è stato denunciato. Vediamo poi in basso Stella Maris, siamo sempre a Montesilvano, tirocini per i giovani in difficoltà, il comune si è aggiudicato il bando regionale e l'ex colonia uno spazio polivalente. Vediamo ancora la cronaca che ci porta in provincia di Pescara, in questo caso partiamo dalla parte alta della pagina. Mariana in casa, giovane libero e poi Francavilla, acqua, problemi anche in contrada villanesi, oggi se scuole restano chiuse per i lavori sulla rete idrica, ma domani si torna in classe. Pianella in arrivo le nuove pensiline della tua, il sindaco Marinelli illustra le novità e replica la lista civica, vivere Pianella. E poi in basso segre il caso della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita, spunta un'altra candidatura, la lista vivere Pianella presenterà una mozione. In consiglio si è parlato tanto nei giorni scorsi della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita ebrea a Pescara, ci sono state anche delle polemiche, ne abbiamo parlato in maniera approfondita. Siamo alla pagina di Chieti del centro, truffe in casa a disabili di anziani, l'affare gestito dalla Camorra, presi ladri pendolari, bande di malviventi legate al clan Contini, hanno raggirato i pensionati anche a Chieti e provincia, si fingevano carabinire i poliziotti per rubare soldi e oro, le telefonate partivano da Napoli e dalla Spagna. Vediamo, vedete poi in basso il meccanismo in questo grafico, in questa foto il meccanismo delle truffe, con la telefonata, poi l'inganno, lo spavento, la consegna dei soldi e le vittime sono quasi sempre anziani. Sanità, la protesta a Vasto, residenti e medici scendono in strada in difesa dell'ospedale, si tinda avanti all'ospedale San Pio da Pietrelcina, i cittadini vogliamo più servizi, pennetta rilancia, manifesteremo anche sotto la regione. E poi la polemica, forte, Vasto non è ferma, ecco le opere in partenza, dice il vice sindaco di Vasto, Giuseppe, forte e in basso. Invece andiamo a Lanciano, la cronaca, ragazza ubriaca non si ferma all'Alt, controlli dopo la festa del vino a Treglio, il grazie del padre alla polizia stradale, ritirate sette patenti. Siamo alla pagina dell'Aquila del centro, in particolare a Cagnano Amiterno, la tragedia sfiorata, cacciatore impallinato dal suo fucile, il giovane è scivolato ed è partito un colpo che lo ha ferito al braccio sinistro, ora è in ospedale con una prognosi di un mese. E poi un branco di lupi, sbrana, pecore e maiali, strage in un allevamento di palombaia di sassa, i predatori erano almeno sei, sale la protesta. Consorzi di bonifica, scontro sulla riforma, siamo a Sulmona, imprudente, l'assessore regionale dice stop ai carrozzoni, il consigliere regionale scoccia, il progetto regionale penalizza gli agricoltori. Ancora un'altra pagina della provincia dell'Aquila, partiamo da Carsoli, video e multe vicini, agente, indagato e poi Balsorano, sisma, verifiche su uno smottamento. Vediamo poi in basso, ad Avezzano, folla per l'ultima lezione del professor Tarquinio, commozione ai funerali del musicologo scomparso a 61 anni. Siamo alla pagina di Teramo, violenza in famiglia, un nuovo caso, maltratta la moglie incinta, indagato un quarantenne teramano. E poi terrorismo e reati fiscali, solo sospetti, rese note le motivazioni per cui il Tribunale del Riesame a settembre ha scarcerato i dieci arrestati. Cronaca, tortoreto, furto in un'agenzia di scommesse, i ladri sfondano la vetrina e rubano una macchina, cambia soldi. E poi Notaresco, autorubata in seguita per ora, il ladro scappa a piedi tra Notaresco e Roseto. Siamo arrivati alle pagine dello sport, allora possiamo passare all'inserto abruzzo del messaggero per vedere le pagine che riguardano la cronaca. Partiamo da Pescara, due pareri contro l'operazione ex Cofa Università, nessun ostacolo dalle opere pubbliche all'ampliamento del polo di Viale Pindaro. Dal comune invece riserve sul rischio alluvioni. E poi volontari nelle scuole, noi con voi, la protezione civile spiegata ai ragazzi. E poi notti agitate, ubriaco, terrorizza un intero palazzo, l'uomo bloccato da un agente. Vanzina al Fla, al Festival di Pescara, mio fratello e io, che storia la testimonianza del noto regista. Andiamo avanti, pagina dell'Aquila, sempre dalle colonne del messaggero. Ecco le isole ecologiche ai Tecci, saranno posizionate in centro. E poi Fossa, museo all'interno della necropoli. E poi parliamo anche attraverso il messaggero della conduttura dell'acqua rotta. D'anno riparato nella notte, emergenza nelle ultime ore, per circa 23 mila persone in 24 comuni della zona est. Comuni che hanno dovuto fare i conti con questa rottura della conduttura. Vediamo altre notizie. In basso, lupi fanno strage di animali nella notte a Sass. E poi col center, impegno di poste italiane per la tutela dei lavoratori. Ci spostiamo alla pagina di Avezzano sul Mona. Telecamere in paese, poliziotto indagato. La procura di Avezzano ipotizza l'abuso d'ufficio per l'agente che ha trapezzato di videosorveglianza montesabinese di Carsoli. E poi Tagliacozzo, la lapide in municipio Meta, di continue visite. Sul Mona, consorsi acquedottistici. Scoccia contro la riforma. Mariana Scoccia, consigliere regionale dell'Udc. Andiamo a centro pagina. Sul Mona ancora il cinema pacifico torna ad essere muto. Avezzano scomparso, l'ex assessore comunale Vinicio Lancia. Tornando a Sul Mona, dimenticato il plesso unico scolastico. Roberta Salvati suona la sveglia e dice si rischia di perdere 4 milioni di euro. E poi provincia, Piacente, Boccialasse, Alfonsi, Giovagnorio. Lasciamo anche questa pagina per spostarci sulla pagina di Chieti del quotidiano Il Messaggero. Ubriachi al volante, patenti ritirati alla festa del vino. Una donna in fuga per evitare i controlli della polstrata dopo l'alto. Il padre ringrazia gli agenti e dice avete evitato il peggio. E poi operazione restyling per lo stadio Angelini. Lavoro in corso per il ritorno del Chieti. E poi Vasto, primariati vacanti ed emodinamica cittadini in piazza a Vasto per l'ospedale. Vediamo poi più in basso ancora. Caso Segre, Ortona, offre la cittadinanza la testimone dell'orrore nazista. E' protagonista, suo malgrado, nelle ultime ore dopo queste numerose richieste di cittadinanza onoraria che continuano ad arrivare l'ultima di Ortona, ma c'era stata anche quella di un gruppo comunale di Pianella e anche di altri comuni a Pescara nei giorni scorsi. C'era stata invece una polemica tra centrodestra e centrosinistra. Siamo alla pagina di Teramo, sempre il messaggero. Asfalti, centrale ed ex fornace Alcona, soffiano venti di rivolta. Convocato un'assemblea pubblica per suonare la sveglia al municipio. Numerosi interventi già programmati rimasti al palo per problemi burocratici. E poi Giulianova, auto sul ponte pedonale, sfugge all'inseguimento. Ancora cronaca, malviventi braccati a Roseto degli Abruzzi, ladri in fuga, seminate le pattuglie di polizie e carabinieri. Giulianova, sculture fatte con i rifiuti, esposte le opere dei bimbi. Parliamo anche dell'A14, barriere sequestrate e traffico K.O. Il caso finisce in Parlamento. Lasciamo anche l'inserto Abruzzo del messaggero, perché siamo arrivati alle pagine dello sport. Allora possiamo aprire con le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali, proprio l'ampia pagina dello sport, che poi proseguiremo dopo una piccola pausa. Iniziamo con la gazzetta dello sport, la Joia di Sarri. La Juve piega un bel Milan. Cambio shock decisivo. Ronaldo Furioso ha abbandonato il campo senza andare in panchina. Vedete poi in basso, sempre più Cagliari. I Sardi battono la Fiorentina 5-2. Conte balla il ritmo del trap, nerazzurri sulla scia della squadra dell'88-89. Milan e Champions, decisive per Ancelotti e purazione al Napoli. Capi ribelli sul mercato. Mertens e Cajon subito, Insigne e Allan in estate. Dunque prevista una rivoluzione a Napoli e nel Napoli, da parte del presidente De Laurentiis, dopo la ribellione dei giocatori che contestarono qualche giorno fa la decisione del ritiro da parte della società. Ma noi torniamo al calcio giocato per vedere quello che è accaduto nell'ultima giornata disputata di Serie A, la dodicesima. Il primo anticipo del venerdì, venerdì scorso Sassuolo-Bologna 3-1. Sabato Brescia-Torino 0-4, esordio shock sulla panchina delle rondinelle per Fabio Grosso. Inter-Verona 2-1, Napoli-Geno a 0-0. Ieri Cagliari-Fiorentina 5-2, Lazio-Lecce 4-2, Sampdoria-Atalanta 0-0, Udinese-Spal 0-0, Parma-Roma 2-0, Juventus-Milan 1-0. Vedete la classifica, Juventus 32, Inter 31, Lazio-Cagliari 24, Atalanta-Roma 22, Napoli 19, Parma 17, Fiorentina 16, Verona 15, Torino-Udinese 14, Sassuolo-Milan 13, Bologna 12, Lecce 10, Genova-Sandoria 9, Spallotto-Brescia 7. Fa impressione vedere il Milan nella parte destra della classifica a ridosso della zona retrocessione. Vediamo il Corriere dello Sport, Stradibala sostituisce Cristiano Ronaldo, estende il Milan e riporta la Juventus in testa Milan, che non meritava sicuramente la sconfitta. Ci sono comunque dei problemi per la formazione rossonera e alle porte c'è la gara con il Napoli, un altro scoglio difficile per la squadra di Pioli. Vediamo anche tutto sport, partiamo dall'alto. Cagliari da favola come i tempi di Riva e poi Torino via la pancia, c'è la dieta Mazzarri. Poi contro sorpasso all'Inter, il cambio decisivo con Cristiano Ronaldo entra di bala e segna il gol vittoria nella gara col Milan. Vedete, premiata ditta, Sarri di bala, chissà cosa penserà in queste ore Cristiano Ronaldo. Allora possiamo fermarci per qualche istante, tra poco torneremo in studio per parlare in chiave locale di calcio in particolare. Andremo a vedere i servizi sulla sconfitta del Teramo a Potenza con il Lepicerno e poi i servizi delle gare delle formazioni abruzzesi giocate ieri in Serie D. Eccoci rientrati per la seconda parte di Mattino 6. Abbiamo visto le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Parliamo del Pescara, dell'ottimo momento della formazione bianca-azzurra. Due vittorie consecutive con Pisa ed Empoli per sognare quarto posto in classifica per la formazione di Zauri che supera Oddo. Pillone nel mirino, il 4-3-2-1 funziona sempre più. Il ruolino del tecnico bianca-azzurro è più alto rispetto alla stagione dell'ultima promozione. In Serie A Empoli primo esame da grande superato brillantemente. Il 22 novembre ricordiamo che sabato prossimo ci sarà la sosta del campionato. Poi in anticipo venerdì 22 novembre alle 21 al stadio Adriatico ci sarà la Cremonese di Marco Baroni. Poi Perugia e Frosinone. Tre scontri diretti fondamentali per proseguire e continuare l'ascesa in classifica. E intanto Borrelli vola in nazionale Under 20. Prima convocazione del centroavanti. Bettella convocato in azzurro dal CT dell'Under 21 Nicolato. Vediamo i posticipi di ieri. Eccoli qui tre le gare disputate ieri per la giornata di Serie B. Con la vittoria della Cremonese di misura con la Salernitana per 1-0. Il pareggio tra Tapani e Cosenza 2-2 il finale. Poi la vittoria del Frosinone sul Chievo per 2-0. Prosegue la risalita in classifica anche della formazione di Nesta. Vediamo anche prima di aprire il capitolo relativo al Teramo. Vediamo anche come il messaggero parla del Pescara. La svolta arriva da Empoli. La squadra di Zauri in piena zona promozione. Media di 1,6 punti a gare. Il padrone Sebastiani, l'ho sempre detto, siamo attrezzati per un ruolo al vertice. Intanto, vedete anche il messaggero, parla dei giovani del Pescara, Borrelli e Bettella, che vanno in azzurro under 20 per il primo, under 21 per il secondo. E poi più gol con i centrocampisti, dei piedi buoni per il Pescara. Resta il miglior attacco della categoria con 22 gol realizzati. Parliamo di Serie C del Teramo. In trasferta non va la squadra bianco-rossa. Lontano dal Bonolis riemergono i soliti guai. Sconfitta per 3-1 a potenza con il Picerno. Fallisce l'obiettivo cinquina. Contestato il rigore con il quale Esposito ha aperto le marcature. Bombaggi colpisce la traversa. Magnaghi segna la rete della speranza. Tedino, quelle decisioni dell'arbitro ci hanno condizionato. Vediamo anche sul centro come si commenta la sconfitta in terra lucana del Teramo. Teramo ridimensionato dal Picerno. La serie di vittorie si ferma a potenza. Vediamo anche il 91esimo Tedino. Buon approccio. Poi l'ha decisa l'arbitro. Andiamo a vedere il servizio sulla sconfitta al Viviani della formazione bianco-rossa. Nel pomeriggio del Viviani l'unica buona notizia è che il Teramo a potenza per quest'anno non metterà più piede. Seconda sconfitta nello stesso impianto nel giro di un mese, stavolta 3-1 col Picerno. Ma se ad ottobre si era finalmente visto un diavolo pimpante, specie in fase di ripiegamento, contro Caidi e Soci va in scena un remake delle prestazioni sconcertanti d'inizio campionato dei bianco-rossi. L'unica novità di formazione per Tedino è l'inserimento di Cianci davanti per Magnaghi, con il centravanti che è il primo a farsi vedere dalle parti di Pane al quarto, in un avvio che sembra ben augurante ma che si rivelerà assolutamente illusorio. Perché le difficoltà dietro sono evidenti, con Pitarresi che risponde subito e un Tomei nella solita giornata di grazia che al decimo deve metterci tutti i suoi riflessi per sventare l'iniziativa pericolosissima del centrocampista rosso-blu. Qualche scricchio Lio, a cui però risponde Bombaggi nell'unica bella azione della sua gara, al ventitresimo controlla e scarica un sinistro che trova solo il palo a negargli la gioia della rete. Un minuto è ancora Cianci a provarci con il tiro neutralizzato da Pane, quello del minuto 33 infatti è un diagonale che manca lo specchio della porta di casa dopo il suggerimento di Mungo. Il Picerno non sta a guardare, preferisce le ripartenze al gioco manovrato e piazzato dal limite di Pitarresi e ancora Tomei a deviare in calcio d'angolo la sua battuta violenta. Sugli sviluppi però, il braccio sinistro Galeotto di Arrigoni costringe Giaccaglia di Iesi a fischiare il calcio di rigore, decisione contestata ma il fischietto marchigiano irremovibile, così come impeccabile la battuta forte centrale di Esposito che sblocca la partita e manda il Picerno avanti a riposo, nonostante Esposito, servito da Melli, potrebbe esiglare subito la doppietta personale. Il rientro dagli spogliatoi è traumatico, 5 minuti e la discesa di Calamai ancora sinistra e letale, Esposito è il più lesto e spaccata, porta i suoi sul 2-0. Teramo tramortito e che con l'ingresso di Gliotti e Florio per Mungo e Tentardini vara la difesa a 5, il problema è che il diavolo così non riesce più a ripartire. Tomei deve salvare su Melli al sessantesimo per evitare un tris a quel punto esiziale. Tedino corre a ripare e butta nella mischia Martignago e Magnaghi ed è proprio l'ex Pordenone che al minuto 76 ribadisce in rete un'azione partita dalla traversione di Costa Ferreira da destra e rifinito da Bombaggi in area di rigore. 2-1 e gara riaperta con un quarto d'ora per tentare la rimonta che rimane strozzata in gola però perché dopo altri sei giri di lancette Kosovan è entrato da poco e Santaniello sfruttano l'ennesima amnesia bianco-rossa e il numero 9 può banchettare dribblando prima Tomei e poi Otti prima di chiudere lo slalom appoggiando in porta il gol di un 3-1 che riporta il diavolo sulla terra. Forse solo a Monopoli una prestazione peggiore in trasferta col Viviani che resta stregato e una sequenza di impegni di campionato da affrontare cancellando immediatamente il 3-0 subito. Domenica con la Ternana inizia una serie di gare che non si possono davvero affrontare con una siffatta tenuta difensiva. Vediamo i risultati della giornata di ieri nel girone C di Serie C con la vittoria del Bari per 3-0 a Bisceglie e poi Catania Sicula Leonzio 2-1, Cavese Catanzaro 2-2, Monopoli Viterbese 1-0, Regina Casertana 2-0, Ternana Paganese 2-0, a Ternana sarà il prossimo avversario del Teramo, Bibonese Rieti 5-1, Virtus Francavilla rende 1-1. Parliamo di Serie D partendo dalla Vastese, la Vastese che non perdona, il Tolentino si arrende 4-0. Il risultato finale per i ragazzi di Amelia che dunque guadagnano tre punti importanti per iniziare la risalita in classifica e domenica prossima nuova sfida in casa contro il Porto Sant'Elpidio. Allora andiamo a vedere il servizio sulla vittoria dei Biancorossi. Dopo un mese senza vittorie la Vastese torna a sorridere, lo fa con un 4-0, ritrovando quel successo che all'Aragona mancava addirittura da un mese e mezzo. Forse troppo severi il risultato per quanto visto soprattutto nel secondo tempo, il Tolentino aveva provato a riprenderla, aveva sfiorato il pari, ma dopo il miracolo di Lorenzo Bardini, i Biancorossi hanno trovato in rapida successione le altre tre reti per portare a casa i tre punti. Mister Amelia ancora orfano di Palumbo, ma ritrova Vittorio Esposito che parte inizialmente dalla panchina. Dopo la prima occasione firmata da Dos Santos, risponde il Tolentino con la conclusione alta di Capezzani. Strappo di stivaletta che serve Francesco Esposito, ma a centroarea il centrocampista Umbro non trova l'impatto con il pallone. La Vastese preme e al 27esimo trova il meritato gol. Calcio d'angolo battuto da Nicolò Cavuoti. Il portiere ospite non controlla la sfera, Giorgi sul secondo palo deposita il rete, trovando il primo gol in maglia Biancorossa. Sul finire di primo tempo si svegliano i marchigiani che con un'azione di Minnozzi provano a pareggiarla. Palla a lato di poco. Altra storia nel secondo tempo, quando il Tolentino preme forte sull'acceleratore, va vicino al gol in due occasioni su palle inattive, ma è clamorosa quella che arriva all'undicesimo, quando Minnozzi tutto solo colpisce a botta sicura di testa, ma sulla sua strada trova Lorenzo Bardini, incredibile miracolo del numero uno livornese. La porta è salva. Un minuto più tardi la Vastese in contropiede, sigla in raddoppio. Cross perfetto di Marianelli, testa di Bomberdo Santos, che insacca la nona rete personale confermandosi il capocannoniere del girone. Tolentino al tappeto. Da lì in avanti la Vastese cala il tris con il neoentrato Vittorio Esposito, meno di 200 secondi in campo, riceve palla dal limite e con un destro fulmina l'estremo marchigiano. Poco prima del triplice fischio c'è gioia anche per Anzini. Conclusione dal limite deviata dall'Aborì e il 4-0 che premia la Vastese. Festa al triplice fischio sotto la Davalos. Tra sette giorni all'Aragona sarà sfida contro il Porto Sant'Elpidio. I bianco-rossi proveranno a conquistare altri tre punti. Noi parliamo del notaresco 10 bellezze, 10 vittorie consecutive per la formazione di Vagnoni, primato solitario in classifica dopo la sconfitta nella giornata d'esordio con il Vasto Girardi. Solo vittorie 10 per la squadra Rosso-Blu che dunque con il successo di ieri a Matelica si candida a questo punto ufficialmente per la vittoria del campionato sul campo di Matelica, prova autoritaria della squadra del presidente Salvatore Di Giovanni. Andiamo a vedere il servizio realizzato per noi da Stefano Recanati. La decima è servita. Il notaresco sbanca Matelica ed approfittando del pareggio della Recanatese di sabato contro il Pineto e la nuova capolista del Girone F di Serie D. Matelica di Colavitto chiamato a ricucire il gap con le prime si schiera con il 4-3-3 a centrocampo bordo a formare il trio con Barbarossa e Croce. In avanti Moretti insieme a Bugaro e Leonetti assente l'ex Aquila Valenti. Il notaresco di Vagnoni in terra marchigiana deve fare a meno di Marcelli e Salvatori ma ritrova Cancelli e Mele con l'ex Francavilla subito in campo a mettere in moto il trio offensivo Cancelli, Romano e Sansovini, arbitra Madonia di Palermo. Subito notaresco al tredicesimo errore in disimpegno di De Santis che permette a Cancelli di creare superiorità in avanti ma il pallone del 10 rosso-blu è impreciso per Sansovini e dunque sfuma così la prima occasione per i ragazzi di Vagnoni. Due giri di lancette e ci prova anche il Matelica con il terzino De Luca che arma dalla distanza il destro senza impensierire Ginestra. Numero 1 rosso-blu chiamato agli straordinari al ventiduesimo quando Bugaro si infila tra le maglie di difensori notareschini provando il lob sullo stesso Ginestra che sbroglia in due tempi anche con l'aiuto dei compagni. Più notaresco che Matelica nella fase nevralgica del campo in questi primi 45 minuti di gioco con la squadra di Vagnoni sempre in anticipo sulle seconde palle. Ma oggi al Giovanni Paolo II c'è un giocatore di categoria superiore come Sansovini che al trentaseiesimo dai trenta metri prende la mira e con un gran destro infila la sfera all'incrocio dei pali dove Rubietis non può arrivare. Ripresa con gli stessi 22 in campo al secondo minuto proteste di Leonetti per un contatto in area di rigore con Gallo ma fa continuare Madonia di Palermo. Al trentesimo il notaresco raddoppia. Sansovini in rovesciata mette in movimento il compagno di reparto romano che parte sul filo del fuorigioco e a tu per tu con Urpietis lo trafigge con un preciso rasoterra. Il doppio svantaggio sveglia il Matelica che si riversa tutto in avanti. La prima occasione al quindicesimo quando Leonetti ha a disposizione un rigore in movimento ma la conclusione dell'ex vastese è imprecisa per farmarli al notaresco. Poi tocca a Bugaro al diciottesimo quando alla destra entra in area di rigore e con un tiro di punta stile futsal esalta i riflessi di Ginestra che manda in corner. Al ventunesimo il Matelica dimezza lo svantaggio. Fallo in area di rigore di Gallo e danni di Leonetti. Sul dischetto si presenta lo stesso attaccante che spiazza l'estremo ospite rosso-blu. Le due squadre si allungano con i biancorossi che si riversano con quasi tutti gli effettivi in avanti come al quarantaquattresimo quando Peroni dalla sinistra entra in area di rigore calcio in porta non inquadrando lo specchio della porta. Al fischio finale protesta dei giocatori del Matelica contro il direttore di gara a farne le spese Leonetti che viene espulso mentre i giocatori del notaresco fanno festa insieme ai propri tifosi. Domenica al Savini arriverà il Cattolica. Una gara da non sottovalutare quella con la formazione romagnola per un notaresco che vuole piazzare l'undicesima vittoria consecutiva. Parliamo invece del Giulianova. Un buon Giulianova non riesce a sfondare pari con la Sangiustese al Fadini sfida senza gol con la formazione marchigiana. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Attacca per quasi tutta la partita ma non riesce a trovare la via del gol. Giulianova che impatta 0-0 contro una Sangiustese pericolosa in avvio ma per il resto deludente e remissiva. Giornata storta per Giordano Fioretti spesso al tiro ma senza trovare il bersaglio grosso anche per un salvataggio sulla linea. Federico Del Grosso in settimana perde Suriano e Barlafante. Ancora out Nazari. Il tecnico di casa si affida al 3-5-2 col trio arretrato. Ferrini, Diamutene e Gueye. In avanti Barlafante a supporto di Fioretti. In panchina Castiglia. Nella Sangiustese l'allenatore Senigalliesi deve rinunciare ancora a perfetti mentre recupera e manda in campo gli esperti Pezzotti e Mengoni. Gara speciale per Alessio Palladini su un campo calcato per anni da papà Ottavio. Buon impatto nei primi minuti per la Sangiustese che ha una ghiotta palla-gola al sesto. Prasmance in buca a Mingiano il quale elude il fuorigioco ma a tu per tu con Bifulco. Centra la base del palo. Il Giulianova si libera degli impacci e si scioglie al ventesimo quando Fioretti scambia con Fazzini. Il centravanti si muove bene e conclude con la punta del piede ma non in quadra da porta. Ma al ventisettesimo dolce serve ancora a Fioretti. Dribbling e conclusione sul primo palo controllata da Chiodini. Dopo la mezz'ora Gueye raccoglie la corta respinta di Mengoni. Sinistro potentissimo ma fuori misura. Giotta palla-gol Giuliese al trentaquattresimo con Barlafante che libera Fioretti il quale fila verso Chiodini ma gli spara addosso. Il cecchino Giuliese poteva fare molto di più. Il tiraccio di Prasmance chiude nel primo tempo giocato in crescendo dal Giulianova. Il cliché non cambia nel secondo con i giallorossi proiettati in avanti. All'ottavo bello spunto di Ramco che serve Barlafante il quale spreca. Ancora Fioretti ci riprova al dodicesimo dalla lunga distanza. Palla di un soffio sopra la traversa. Senigallesi prova ad invertire il trend con Mattia Palladini e Pomiro per Romano e Mingiano. Ma Fioretti continua a sparare vanamente da tutte le posizioni come accade anche al venticinquesimo servito da Di Paolo. Il centravanti è anche sfortunato al ventisettesimo perché sugli sviluppi di un corner il suo tiro è respinto sulla linea di porta da Scogna Miglio. Proteste poi per un presunto mani di Mengoni in area di rigore. Solo angolo per Moretti di Valdarno. Scialba prova di Pezzotti che si congeda così prima di lasciare il campo a Manari. Mentre Del Grosso gioca la carta delle tre punte con Vitelli per Fazzini. Anche se a tirare sempre Fioretti anche da terra due volte al quarantatresimo in un finale nel quale Giulianova non lesina gli sforzi che però non portano al gol partita. E così i giallorossi devono accontentarsi di uno 0-0 che per la Sangiustese invece è grasso che cola. Notte positive per l'Avezzano che conquista il primo successo stagionale in trasferta. I primi punti lontano dal Dei Marsi. Il blitz a Tolentino contro il Porto Sant'Elpidio. I gol di Magri e di Gaeta. Un successo pesantissimo in chiave salvezza per la formazione del presidente Parisi. Allora andiamo a vedere il servizio. L'Avezzano brinda i primi punti conquistati in trasferta. Batte 2-0 il Porto Sant'Elpidio. Gara giocata delle vittorie di Tolentino per l'indisponibilità del comunale Elpidiense. E si porta a solo tre lunghezze dalla zona salvezza. Per i marchigiani terza sconfitta nelle ultime cinque gare. Ma ciò che preoccupa di più in casa Porto Sant'Elpidio è la difficoltà nel centrare lo specchio della porta. Mister Mengo propone Cucù dall'inizio con Ruzziere in panchina. Gara scoppiettante sin dalle prime battute. All'occasione dei locali dopo tre minuti e mezzo risponde Gaeta poco dopo con un tiro da fuori. Marsicani ordinati a metà campo con un 4-4-2 che vede Puglielli accanto a Gaeta. Stesso modulo anche per i locali che però presentano un rombo di centrocampo con l'onni presente Borgese vertice basso. Il gioiellino Miccoli trequartista dietro Maio e Cucù. Cianelli al sedicesimo ha l'occasione di portare in vantaggio i bianco-verdi. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il pallone arriva sui suoi piedi. Traversa. Gli ospiti giocano a viso aperto al 32esimo. Percussione di Gaeta. Pericolo per i padroni di casa che si salvano in corner. Poi è la volta di Cucù che impegna Fanti su calcio piazzato. Finale di tempo di marca marsicana. Mister Liguori ordina Quatrana di spingere sulla destra per tenere il dirimpettaio Terezio più basso. E proprio Quatrana potrebbe far male al 44esimo ma spreca così. Nella ripresa Puglielli dopo appena 40 secondi manda al lato. Miccoli mostra di avere buoni piedi ma la mira non è precisa. Il Porto Santerpiglio le sue occasioni le crea pure ma non è giornata. Maio prova a mettere un pallone teso al centro ma nessun compagno è pronto. Mentre Monserrati incorna sugli sviluppi di un tiro dalla bagnerina. Fanti ci mette i guantoni. Cucù cala la distanza. Mister Mengo lo lascia però in campo perché dai suoi piedi potrebbe arrivare sempre una giocata vincente. Aumenta però il peso d'attacco della sua squadra inserendo Ruzziere al posto di Frinconi. Con Miccoli che scivola una decina di metri più dietro in posizione di Mezzala. Al 27esimo il vantaggio ospite. Franchi è entrato un attimo prima al posto di Quatrana. Su calcio piazzato da distanza siderale pennella per Magri. Giacchetta legge male la traiettoria lasciandosi scavalcare dal pallone. Una doccia ghiacciata per il Porto Santerpiglio che nei minuti finali qualche occasione per pareggiare la creerà pure. Ma lo specchio della porta dell'Avezzano resta stregato. Anzi in pieno recupero gli ospiti chiudono il conto con Gaeta che manda fuori fase il diretto marcatore. E scaglia un bolide alle spalle di Giacchetta per il 2-0. Al fischio finale Mister Liguori corre ad abbracciare i suoi ragazzi uno ad uno. Mentre in casa marchigiana Volti Cupi. E Volti più che Cupi invece in casa Chieti dopo la sconfitta casaringa con il Fiuggi e Crisi. Traballa la panchina di Mister Grandoni. Brutta prova del Chieti almeno nel secondo tempo dopo una buona prima parte di gara. Poi il crollo con la vittoria della formazione laziale. Andiamo a vedere il servizio anche in questo caso che è stato curato per noi da Roberta Di Sante. Il Chieti cade nello scontro diretto contro l'atletico Fiuggi al Petruzzi di Città Sant'Angelo e resta in zona play-out. La formazione di Grandoni tiene il gioco per 70 minuti ma spreca troppo e viene punita nel finale. Chietini in casacca rossa senza vittiglio e tra inima con Catalli che rientra dal primo minuto in avanti in coppia con Bruni. Tenuta nera per il Fiuggi, oggi guidato dal vice russo con incocciati squalificato per quattro turni. Ancora senza D'Andrea i laziali confermano in toto la formazione che ha perso di misura a controllare Canatese. Primo tempo appannaggio degli abruzzesi che confezionano diverse palle gol. Al quinto Mazzolli prova ad innescare Bruni che non riesce ad indirizzare la sfera, poi Milizia impegna la Gorga che si rifugia in corner. Ancora Milizia all'undicesimo si incunea in area e sull'intervento di Scalon cade a terra ma il direttore di gara fa proseguire. La risposta del Fiuggi al ventinovesimo sta tutta in questo calcio di punizione dalla sinistra di Manfrellotti di poco alto ma Camerlengo era sulla traiettoria. Il Chieti insiste e al trentatreesimo spreca un'ottima occasione per passare in vantaggio. Paneccasio mette ancora in mezzo per Bruni anticipato da Moriconi, poi Fantauzzi da buona posizione spedisce fuori. La reazione del Fiuggi tarda ad arrivare e i Diti Atini tengono in mano le operazioni. Al quarantunesimo Fantauzzi d'esterno serve Milizia, il colpo di testa ravvicinato sul primo palo e il miracolo di la Gorga ad alzare sulla traversa. Si va così al riposo sul parziale di uno 0-0 che sta stretto ai neroverdi che tornati in campo dopo appena quattro giri di lancette sfiorano nuovamente il vantaggio. Fantauzzi mette in mezzo dalla destra velo di Catalli, sponda di Bruni e Mazzolli che da fuori calcia al lato. La porta laziale sembra stregata, il Chieti produce ma non riesce a sbloccare in nessun modo la contesa. Al ventunesimo punizione dalla destra di Mazzolli, Venneri in tuffo sul primo palo spedisce fuori di un soffio. Il Chieti ha speso molto e con il passare dei minuti inevitabilmente cala i ritmi e il fiuggi viene fuori. Al ventiseiesimo Papaserio dalla destra pennella il cross per la testa di Forgione che gira di pochissimo al lato. E' il preludio del vantaggio ospite che arriva come una doccia gelata. Al trentacinquesimo sugli sviluppi del calcio di punizione di Macri, Basilico impegna Camerlengo la respinta corta del portiere sulla quale si avventa Scalon che ribadisce in rete. Il gol del vantaggio cambia il volto della partita. Al quarantaduesimo notte fonda per il Chieti Macri se ne va in contropiede, entra in area e viene messo giù da Ricci. Il direttore di gara senza esitare estrae il secondo giallo all'indirizzo del difensore che viene espulso ed assegna il calcio di rigore. Basilico dagli 11 metri angola in maniera perfetta. Camerlengo intuisce ma non ci arriva per uno 0-2 che punisce. Oltre modo il Chieti che incassa la terza sconfitta in quattro gare e nel finale viene contestato dai tifosi della Curva Volpi che chiedono di più. E noi parliamo ancora di calcio dopo aver chiuso il capitolo Serie D. Parliamo di eccellenza. Il Lanciano non va oltre lo 0-0 in casa con Renato Curi angolana. Lanciano brutto e spuntato che si allontana dalla vetta del torneo regionale di eccellenza. Vediamo gli altri risultati con la vittoria del Capistrello per 2-1 con la Virtus Cupello. Balgiglio Calupo, Vasto Marina, Paterno 2-0. Acqua e Sapone, Nereto 1-0. E poi il Castelnuovo che batte in Nero Stellati per 4-0 e allunga in testa alla classifica Spoltore-Torrese 1-0. E poi San Buceto, Angizia-Luco 0-1. Alba Adriatica, Delfino, Flacco, Porto, Pescara 2-1. Pontevomano-Penne 2-2. Vediamo quello che è accaduto nel Girone A con l'Aquila che pareggia per 0-0 a Montorio. Montorio grazie all'Aquila ma perde il secondo posto. L'esito della sfida al vertice tra le due formazioni. Vediamo gli altri risultati della giornata di ieri nel campionato regionale di promozione. Girone A-Miano, Nuova Sant'Egidiese 2-2. Torni in parte Mutignano 0-4. Mociano-Morrodoro 4-0. Celano-Miternina 5-0. New Club Villa-Mattoni-Rosetana 2-0. Pucetta-Fontanelle 0-0. Real Atria-Piano della Lente 1-2. San Gregorio-Pizzoli 4-1. Il Girone B con il Casalbordino indomabile. Anche il Fossa-Cesia finisce KO 3-1. Il finale per il Casalbordino e poi sul Mona Fater 2-0. San Giovanni-Tiatino-Elicese 1-0. Bucchianico-Scafa-Passo-Cordone 0-0. Miglianico-Raiano 2-1. San Salvo-Casolana 2-1. Silvio-Ortona 5-1. Val di Sangro-Villa 2015 1-3. Virtus-Ortona-Atletic-Lanciano 5-1. Chiudiamo la pagina relativa al calcio. Parliamo di basket dell'impresa di Roseto che esulta e vince con un tiro libero fallito da Montegranaro sul campo della formazione marchigiana Porto San Giorgio. 79-78 il successo per la squadra di coach d'Arcangeli che dice bravi ragazzi ma ora miglioriamo dopo due sconfitte. Dunque Roseto torna al successo in serie B maschile di basket. Lesachieti fa il colpaccio e passa per 79-68 sul campo del Teramo. Il Giugnanova sfiora il colpaccio a Rimini ma perde per 68-64. Nella serie C-Gold Lanciano piega Falconara. Vasto si lecca le ferite. Lanciano che batte la formazione marchigiana per 77-64. Vasto cade con il Pisarum 85-62. Magic chiede in crisi. Arriva la quarta sconfitta consecutiva. Battuta in casa la formazione teatina dal Bramante. Pesaro per 65-63. Vediamo invece quello che è accaduto nel campionato di C-Silver. Sesta giornata con il Teramo che batte Pescara per 64-61. E appaia a questo punto in testa la classifica proprio ai pescaresi. Poi Amatori Pescara Silvio 82-47. Nuovo basket Aquilano Mociano 58-81. Antoniana Torres Pess 64-76. Airino Termoli Farnese Campli 34-100. Vediamo la palla a volo maschile di Serie A2. Prosegue la corsa al vertice della Secortona che fa festa al quinto set. Va sul 2-0. Poi c'è la rimonta di Castellana Grotte che alla fine deve inchinarsi alla capolista ortonese che resta in testa la classifica. Secortona 11-10. Brescia 10-10 Santa Croce sull'Arno. 9 punti questa la parte alta della classifica. In Serie B Virtus Orsogna si dimette il tecnico della formazione che milita nella Serie B1. Femminile vincono Pineto e Chieti. Chiudiamo con il podismo a controguerra. Rono e Naimagna. L'Africa detta legge. Il runner keniano batte Santoro dopo un lungo duello. La barundese invece fa il vuoto. Mariani è il primo degli abbruzzesi. L'edizione 2019 chiusa con 3.400 iscritti di cui 1.100 alla prova competitiva della lunghezza di 15 chilometri. Il resto dei partecipanti ha preso parte alle prove non competitive di 8,5 chilometri. Rugby femminile. Le belve nero-verdi vanno KO e cedono la vetta. Siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi di lunedì con Mattino 6 che tornerà domani puntuale alle 8. Io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia. Ringrazio voi come sempre per averci seguito. Vi ricordo alle 14 la prima edizione del TG6. Questa sera invece alle 21 dei nostri studi in diretta. Replay con Enrico Rocchi per parlare del Pescara, del buon momento, dell'ottimo momento della formazione abruzzese. Guidata da Luciano Zauri. È davvero tutto. Buona giornata. Grazie a tutti.